Bene, ciao a tutti! Siamo arrivati alla seconda lezione del nostro corso di analisi tecnica moderna. Nella scorsa lezione vi ho fatto un cappelletto, vi ho spiegato cos'era l'analisi tecnica e come dovevamo considerarla, qual era il suo scopo, a cosa serviva. Poi abbiamo visto che c'era la possibilità di utilizzare la piattaforma di TradingView per il nostro corso, per studiare le basi per i principianti di analisi tecnica moderna e siamo andati a guardare il nostro primo grafico. A questo punto ragazzi, torniamo sul grafico, andiamo a prendere quella linea dei prezzi e tiriamo giù le nostre considerazioni su questa lezione che tratterà tre punti. Impariamo a guardare il grafico per trovare il trend di mercato, andiamo a capire quali indicatori possono esserci utili e poi facciamo una cosa pratica, impariamo a capire se siamo dal lato giusto del mercato, se il nostro investimento è a rischio contro il mercato oppure no. Ma prima di andare sul grafico a fare tutte queste riflessioni e la nostra lezione di analisi tecnica moderna, vi chiedo di iscrivervi ragazzi, se ancora non vi siete iscritti al canale lasciatemi un mi piace, poi come anche l'altra lezione vi ricordo di iscrivermi nei commenti, di quello che pensate se non avete chiaro qualche concetto e soprattutto quali sono gli argomenti di vostro interesse. Bene, allora andiamo sul grafico. Oggi guardiamo un titolo diverso dal solito, un titolo che stavo analizzando un po' di tempo fa ed è Coca-Cola ragazzi. Coca-Cola sapete perfettamente che azienda è, è inutile che vi faccio il cappelletto perché è una delle aziende più grandi del mondo. Intanto una cosa importantissima da andare a considerare, come gestiamo il grafico. Vedete che io uso in questo momento un grafico pulito, privo di qualsiasi indicatore. Vi consiglio vivamente di fare la stessa cosa, soprattutto se siete neofiti. Se state imparando, se state iniziando, siete principianti andate a togliere tutte le figure, tutti gli indicatori, tutti i disegni dal grafico. Lasciate solo il prezzo. Non andate a lasciare fasci di medie, mille indicatori perché se non li sapete usare, se non sapete cosa significano, non dovete usarli. C'è un trucco, un tips che vi dirò anche alla fine di questo video, che è utilissimo e vi fa capire quando gli indicatori andranno utilizzati. Andiamo poi a fare il punto su un'altra cosa che è molto importante. La rappresentazione dei grafici può avvenire attraverso diversi tipi. Abbiamo il grafico a barre che è fatto così, ve lo mostro. Il grafico a barre è un grafico molto utilizzato, io lo uso un po' di meno perché mi piacciono vedere i colori un po' forti, quindi preferisco le candele. Ma il grafico a barre è costruito in maniera molto semplice. Quello che vedete, per esempio, su questa barra, prendiamola in considerazione, questa barra qui, è una barra che vi indica questo prezzo di apertura. Quindi la parte che vedete di qui a sinistra, la barretta a sinistra, indica il prezzo di apertura. Poi la parte alta indica il massimo, la parte bassa, questa qui, indica il minimo e la parte a destra il prezzo di chiusura. Tutte queste cose vi indicano comunque una rappresentazione del movimento dei prezzi. E quello che noi guardiamo su un grafico è il movimento dei prezzi di uno strumento finanziario, non ve lo dimenticate. Poi scegliamo quella che è la rappresentazione che più ci piace, ragazzi. Possiamo utilizzare le barre, le candele, le candele o delle Aikinashi. Per esempio queste sono delle rappresentazioni decisamente molto particolari. Vi sconsiglio vivamente di utilizzarle se siete dei principianti. I grafici più utili se state iniziando sono il grafico lineare, il vecchio grafico lineare, poi il grafico a candele, questo qui, che è un grafico anche utilissimo. Quindi usiamo il grafico a candele o quello lineare. Al momento, essendo neofiti, essendo questa la seconda lezione, useremo il grafico lineare. Altra cosa fondamentale è il concetto di time frame del grafico. Il time frame rappresenta lo spazio di tempo di movimento di questi prezzi. Ve lo faccio vedere con le candele. Questa candela viene ad essere sviluppata all'interno di un range di tempo. In questo caso è un range weekly, la V, quella che vedete qui, settimanale. Ci sono diversi time frame. Noi possiamo vedere il movimento del prezzo in time frame che vanno addirittura dal secondo al mese, oppure range costruiti come ci piace un po' a noi. Quelli più utilizzati per fare trading di natura intraday, strategie di intraday trading e daily trading, sono dal 15 minuti a salire. Già il grafico a 5 minuti è sconsigliatissimo, ragazzi. E viene utilizzato solo in alcune particolari situazioni, su mercati non molto volatili, come esempio il forex o mercati gold in generale. Quelli poi utilizzati anche dai day trader, così si chiamano i trader che fanno operazioni aperte, chiuse dentro una singola giornata, sono grafici a tempo orario. Per esempio vi faccio vedere a un'ora come cambia. Lo abbiamo visto prima su base settimanale, guardate come aumenta il suo movimento su un grafico di natura oraria. Mentre se metto D che è daily, guardate come il movimento si riduce, se metto V guardate come si riduce ancora, se metto M, V è quickly ed M è mensile, si riduce tantissimo. Vedete, è una rappresentazione zoomata. Voi dovete ricordarvi lo zoom della camera del vostro smartphone, ed è lo stesso concetto. Più andiamo a rappresentare il grafico con tempi molto lunghi, più questo zoom va dietro. Quali sono i time frame consigliati per chi inizia? Daily e weekly. In questo caso andremo a utilizzare il time frame weekly. Spostiamoci sul nostro grafico lineare, andiamo a utilizzare il time frame weekly. Come faccio a capire qual è il trend di uno strumento finanziario? Ragazzi, il trend di uno strumento finanziario, l'analista tecnico lo guarda e lo vede. Guardando massimi e minimi dello strumento finanziario, cioè statisticamente lo analizza così. Questa fase qui, da qui in poi, di Coca-Cola, ha un trend al rialzo, quindi è long. Il trend rialzista si chiama long. Allora, questo trend di Coca-Cola è visibile perché il nostro strumento finanziario che stiamo analizzando da qui in poi fa dei massimi e dei minimi crescenti, cioè massimi sempre più alti, li vedete, e minimi sempre più alti. In questo caso, 1, 2, 1, 2, è un trend rialzista. Così si individua il movimento di uno strumento finanziario, guardando il trend con queste semplicissime informazioni che vi ho dato da un punto di vista grafico. Da qui io so che il trend di Coca-Cola è rialzista e lo è rimasto praticamente sempre, ragazzi, fino alla crisi Covid, che come vedete ha fatto un minimo inferiore al precedente. Il precedente era qui o qui, dipende, insomma, se guardiamo orizzonti differenti, questo minimo li ha rotti entrambi, e quindi questo è un'inversione di trend. Quali sono gli indicatori che ci vengono in aiuto in analisi tecnica e che l'analista tecnico può utilizzare per individuare il trend se siete un po' confusi? Gli indicatori principali sono quelli delle medie mobile. Io utilizzo delle medie mobile che sono così costruite. Mi metto un grafico bianco, così riusciamo a vedere un po' anche le mie medie. Allora, le medie, ragazzi, io ne uso due, sono una corta da 10-11 periodi, l'altra da 20 periodi, 22 periodi. E mi possono indicare anche l'oscillazione, quindi possono indicare il movimento del sottostante, quindi del prezzo, senza guardare il prezzo stesso, perché ancora una volta con la logica dei minimi e dei massimi io ottengo il trend. Questa media, vedete, è rialzista in questo punto e questo mi indica il trend al rialzo. Posso anche decidere di guardare le medie in maniera anticipata rispetto al mercato, se non voglio aspettare che il mercato fa minimi e massimi crescenti, quindi se non fa questo, aspetto e dico, ok, siccome la media mobile corta, quella blu che vedete, è sopra la media mobile lunga, che è quella arancio-giallo, allora il trend di breve è rialzista. Quindi come faccio a capire il trend usando le medie mobili? Vado a guardare quando la media mobile veloce, quella corta, è superiore alla media mobile lenta, quella in questo caso arancio. Se è superiore ho un trend che viene indicato come rialzista. Ci sono però delle eccezioni che dobbiamo considerare nell'ambito delle medie mobili, per cui io in questo momento, oggi non lo trattiamo, però vi dico che è più importante imparare a guardare i trend di mercato guardando semplicemente i prezzi, senza andare a considerare le medie mobili. Se dovessi chiedervi, e lo faccio magari come domanda per i commenti, in questo punto le medie, vedete cosa indicano? Qual è il trend di breve dello strumento Coca-Cola? In questo punto, nei commenti, la risposta a questo esercizio. Infine concludiamo questa lezione rispondendo alla nostra domanda finale. Come capire se avete un investimento in corso, se siete nel verso giusto? Beh, ragazzi, la frase è la mia preferita, quella che ho stampato anche sulla maglia, anche oggi non ce l'ho. Trend is your friend. L'analista tecnico deve stare sempre a favore di trend. Se non siete a favore di trend, state probabilmente sbagliando qualcosa, o semplicemente state magari utilizzando delle strategie di posizionamento che prevedono magari anche di andare contro trend per piccolissimi lassi di tempo e con capitale molto piccolo. Queste strategie le sconsiglio vivamente a tutti quelli che sono i principianti. Lo so, è una cosa contro il commercio, diciamo, perché solitamente chi è principiante la prima cosa che fa compra uno strumento finanziario che crolla, che scende, cioè compra esattamente contro trend. Questa cosa non dovete farla assolutamente, perché è il peggior modo di iniziare a fare analisi tecnica, il peggior modo di rapportarvi al trading, ed è il peggior modo anche di imparare come si fanno i profitti sul mercato. Allora, se voi avete uno strumento in questione e volete capire, volete rispondere alla domanda, ma sono in fase col mercato, sono nella giusta posizione o sono contro trend? È facile, andiamo a prendere quello che è il nostro strumento, in questo caso tolgo di nuovo le medie, andiamo a vedere Coca-Cola, in questo momento, nella fase finale, quindi nell'attuale momento, ragazzi, com'è il trend di Coca-Cola? Se io sono long su questa stocks, ho comprato l'azione Coca-Cola, in questo momento sono nel giusto o no? Sono nel torto, ragazzi, ve lo dico subito. Perché? Perché ho un trend che in questo momento potrebbe essere ribassista. Ancora non lo sappiamo, perché? Perché questo minimo in realtà non è sceso sotto, quindi per avere un trend al ribasso devo avere minimi e massimi decrescenti. In questo caso il trend non è andato giù, perciò, in sostanza, in questo momento, la posizione giusta sul titolo Coca-Cola è flat. Flat significa posizione zero, ragazzi, senza nessun tipo di investimento. Se voi siete short o long su questo mercato, non siete nella giusta posizione. In questo momento, su Coca-Cola, bisogna essere flat. E se vi facessi un'altra domanda, sempre un esercizio per i commenti, quando potremmo indicare un'inversione di trend e una posizione long su Coca-Cola, guardando questi livelli di massimi e minimi, quando questa stocks indicherebbe un trend long e quindi potremmo essere in posizione di acquisto su Coca-Cola, scrivetemelo nei commenti, questo è l'altro esercizio per la lezione di oggi. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa seconda lezione, breve ma intensa. Fatemi sapere nei commenti quello che pensate, rispondetemi a questi esercizi e come sempre pollicione in su e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!